Sì, non è vero. guarda che sta mangiando ma è il centro disabile quello lì a proposito no è che il centro disabile è quello lì di via Varese no? eh non lo so non lo so questa è via Varese Spero che avete appena visto il vacanza, i abboccadini e queste sono le mie gambe